Anche se so che Fiori ha un ragazzo importante, un portato finale, non è un gruppo anche che ha fatto qualcosa da tutti gli stadi al cuore. Quindi è possibile che magari, per alcune cose, per alcune cose, potete fare anche qualcosa di diverso tra le potenze. No, no, ma è come un'altra cosa che fa, che fa, è rossa, perché c'è... Scuso, con un po' le cose, con un po' le cose, con un po' le cose... Guarda come gioca, ma quando gioca?